Sport ma anche famiglia, scuola e cultura. Il progetto Nelly Volley Barletta continua e si rilancia andando oltre l'ambito prettamente sportivo. La stagione 2019-2020 del sodalizio preseduto da Francesco Falconetti ha preso ufficialmente il via con la presentazione di squadra allenatore staff tecnico ospitata dalla Sala Rossa del Castello di Barletta. La serata, oltre a rappresentare l'occasione di presentazione della compagine pronta ad affrontare il campionato di Serie D, è stata l'occasione per una riflessione approfondita e incentrata sul ruolo formativo dello sport in giovane età. Ad animare tale riflessione, oltre al responsabile del progetto tecnico Nelly Franco Frezza, anche la vicepresidente della società Marilena Petronelli e la dirigente della scuola Giovanni Paolo II Francesca Capuano. La volontà della Nelly di coltivare giovani talenti, rappresentata al meglio dall'età media della prima squadra, allenata da coach Di Leo, è composta da ragazze tra i 17 e i 20 anni, ma anche e soprattutto dalla presenza delle formazioni mini volley under 12, 13, 14 e 16. L'avventura della prima squadra nel campionato di Serie D prenderà il via a Bari il prossimo 2 novembre. Il progetto Nelly va avanti ormai da anni e sta diventando una tra le realtà sportive più belle del territorio. Grazie a tutti.